Benvenuti sulla pagina Facebook di Antropologia del Cristianesimo, uno spazio che intende analizzare e approfondire le tematiche di questa religione con un taglio prettamente antropologico. Lo faremo ponendo al centro della nostra indagine sia gli aspetti più conosciuti che quelli meno conosciuti, sia ciò che riguarda il cristianesimo istituzionale che quello della devozione popolare, sia i grandi eventi che quelli minori. Il primo caso che andremo ad analizzare riguarda un rituale, un rito di religiosità popolare cristiana ancora in uso nell'Ottocento ad Alatri. Questa tradizione popolare fu posta in rilievo da Marianna Candi di Dionigi, una studiosa, un'erudita italiana dell'inizio dell'Ottocento che durante alcuni viaggi nel sud del Lazio notò e partecipò a questo rituale popolare. I resoconti dei viaggi della Dionigi che si svolgeranno in un arco temporale che va dal 1809 al 1812 saranno poi pubblicati in un volume. I racconti della Dionigi saranno accompagnati da tavole illustrate disegnate dalla stessa studiosa e da alcune piante che invece saranno prodotte da un suo compagno di viaggi l'architetto Luigi Campovecchio. durante la descrizione delle mura ciclopiche di Alatri la Dionigi si sofferma su un antichissimo rilievo nei pressi di una delle porte d'ingresso della città Porta San Pietro al centro di questo particolare rituale. I diversi racconti dedicati alle diverse città del Basso Lazio da lei visitate sono indirizzate a un amico, non sappiamo se immaginario o reale perché nel testo non è specificato il nome, dove appunto lei racconta quanto scorge, quanto vede durante il suo percorso, il suo itinerario. Ascoltiamo cosa dice a questo suo amico riguardo il rilievo della porta di San Pietro Vorrei trovarmi presente nell'atto che ricevete questo disegno. Voi sdegnate certamente di fissare lo sguardo sull'informe figura che rappresenta. Eppure essa merita particolare riflessione, ed io mi lusingo della vostra riconoscenza per averla non solo disegnata ma ezian dio tratto nel gesso, considerandone l'importanza. È questo un basso rilievo di una sola figura, forse dei primi che siano stati fatti nell'Italia meridionale perché contemporaneo al muro ciclopeo, trovandosi sopra una pietra di esso. Ne potrebbe si credere che questa pietra sia stata in seguito posta nel muro, essendo collegata con le altre perfettamente, né che venisse scolpita in tempi posteriori, poiché la superficie che serve di fondo alla scultura è piana ed in linea con il resto del muro. La Dionigi immagina anche una possibile identificazione della figura scolpita sulle mura di Alatri. Poiché il trovarlo scolpito presso la porta, da dove sembra dovesse proteggere la città e la campagna, mi fa confermare nel parere che fosse l'immagine di questa divinità venerata, come scrive Diodoro, nella città, nei campi e nelle ville. Come abbiamo sentito la Dionigi ipotizza che questa immagine sia quella del dio degli orti posto a protezione delle città e delle campagne. Noi non abbiamo alcun elemento per poter confermare questa sua ipotesi, ma dandolo per buono andiamo a vedere come si svolgeva il rituale sempre narrato dalla Dionigi. A valora altresì la nostra opinione il costume che vi è fra gli alatrini, costume che si dice abbia avuto origine dal tempo che la religione cristiana si introdusse in alatri, di portarsi in folla il secondo giorno di Pasqua ad offendere con i scherni e colpi di sassi questi bassi rilievi che asseriscono fossero alquanto indecenti, avendo forse voluto il popolo dimostrare di aver abbandonato l'idolatria, comprendere in dispregio l'immagine di un falso nome. Abbiamo a questo punto degli elementi che ci consentono di poter analizzare questo rituale. Abbiamo un tempo del rito che è quello della seconda giornata di Pasqua, cioè Pasquetta. Abbiamo un luogo dove si svolge il rito che è quello di Porta San Pietro di Alatri. Abbiamo un oggetto del rito che è l'immagine rovinata del possibile dio degli orti e abbiamo anche un soggetto del rito, gli operatori del rito, che è la comunità stessa di Alatri. Proviamo quindi a analizzare la struttura del rito stesso. Riguardo al tempo del rito siamo in una temporalità festiva, cioè il tempo festivo è ciò che sottolinea la cessazione delle attività ordinarie, quotidiane, normali, e si entra quindi in un tempo o altro, in un tempo in cui si sospende la vita abituale e si entra in un'altra modalità temporale. Da un punto di vista della celebrazione, pur essendo la Pasquetta una festività laica, ha anche un richiamo alla religiosità perché da un punto di vista cristiano si inserisce in quel momento di rivelazione della resurrezione del Cristo alle donne che si erano recate al sepolcro da parte di un angelo. Per quanto riguarda lo spazio, il luogo dove avveniva il rito, è fortemente significativo che questo avvenisse presso la porta di San Pietro, cioè la porta, una delle porte d'ingresso della città. Cosa significa questo? Beh, la porta, la soglia, da un punto di vista simbolico, in tutte le culture ha un significato fondamentale, che è quello di mettere in comunicazione due mondi, nel nostro caso il mondo esterno, quello della natura, della campagna, con il mondo interno, quella della cultura, dell'uomo, cioè la città. Ma nello stesso tempo divide anche i due mondi, quindi ha questa ambivalenza la porta, la soglia, quello di far comunicare universi diversi, ma nello stesso tempo permettere anche nei momenti di crisi soprattutto e di pericolo di chiudere la comunicazione tra questi due mondi. La modalità con cui avveniva quindi il rito, quello della folla che si avvicinava presso la porta di San Pietro e scagliava delle pietre verso l'immagine in rilievo dopo averla schernita, averla insultata, non può non farci pensare a un supplizio che avveniva e che purtroppo avviene tuttora in alcune parti del mondo, quello della lapidazione. In genere questa condanna è associata a una volontà della comunità stessa, si tratta quindi di una condanna sociale, a volte neanche istituzionalizzata. Ma se la lapidazione portava alla morte certa del condannato, nell'antica Atene esisteva un rituale che poteva consentire anche alla salvezza, all'eventuale salvezza, dei predestinati oggetto del rito, così come alla loro morte. I due individui scelti dovevano essere particolarmente ripugnanti nell'aspetto e durante tutto l'anno erano ospitati nella città di Atene a spese dello Stato, ma giunto il giorno delle targhelie a loro non restava che fuggire per le vie della città cercando disperatamente la via d'uscita, la porta d'uscita di Atene bersagliati dal lancio di pietre da parte della cittadinanza. I due farmacoi potevano sia perire durante questa corsa all'interno della cinta urbana della città, sia riuscire a fuggire. Qual è quindi il significato di questo rituale? È evidente che i due farmacoi, i due maledetti scelti per il loro aspetto ripugnante, erano simbolo e si facevano carico del male e dei pericoli che la città di Atene aveva corso e che poteva correre. E quindi era un rito anche in qualche modo espiatorio da parte della città, della società atenese, ma che trovava nei due individui scelti dei capri espiatori. Quindi il rituale aveva successo sia in un caso sia nell'altro, ovvero nel caso in cui i due sventurati fossero uccisi, fossero periti durante la corsa, con loro morivano anche i mali di cui si erano caricati. Nel caso invece fossero riusciti a fuggire dalla città va bene lo stesso, i mali, i pericoli che poteva correre la cittadinanza atenese o che durante l'anno erano stati presenti all'interno della città di Atene erano in questo modo fuggiti insieme ai due farmacoi. Concludendo, quale lettura potremmo dare di questo rituale della città di Alatri? Beh, gli elementi non sono a nostra disposizione, non sono moltissimi, ma da quello che abbiamo potuto leggere e considerare potremmo abbozzare delle ipotesi di lettura del rituale. Intanto consideriamo l'aspetto temporale del rito. Il rito si svolgeva nella seconda giornata di Pasqua, il giorno di Pasquetta. Da un punto di vista del cristianesimo quel giorno è indicativo per un fatto, per un motivo. L'angelo annuncia alle genti, alle donne che si presentano al sepolcro, la resurrezione del Cristo. Questo significa la resurrezione come vittoria sulla morte, ma anche come vittoria su tutto ciò che era stato fino a quel momento il sentimento religioso. Quindi la vittoria del cristianesimo sul paganesimo. Non è un caso che proprio il giorno di Pasquetta i cristiani, le genti cristiane di Alatri si recassero in massa verso questo simulacro, quello che rimaneva di questo simulacro pagano, per confermare la vittoria del cristianesimo sul paganesimo. Attraverso il lancio delle pietre contro questo rilievo, antico rilievo di un simulacro, di un nome pagano, si voleva sottolineare una cosa, la vittoria della fede cristiana nella città di Alatri contro i vecchi ulti pagani. Non a caso si tramandava ad Alatri che questo rituale fosse antichissimo, cioè fosse già in uso quando apparve per la prima volta il cristianesimo nella città di Alatri. A noi non interessa sapere se storicamente, cronologicamente, questo è vero. Da un punto di vista culturale è significativo perché è evidente che si vuole in questo modo riaffermare una nuova identità, l'identità cristiana rispetto alle vecchie religioni tradizionali pagane. Nello stesso tempo però dobbiamo anche immaginare che si adoperasse il simulacro come una sorta di capro espiatorio da caricare con tutti i pericoli e tutti i mali che la città poteva correre o che aveva già corso e questa sorta di lapidazione simbolica stava anche a significare che in questo modo si allontanavano i rischi per la società alatrina. Abbiamo visto quando, cioè il tempo in cui si svolge il rito, vediamo ora dove, in quale luogo si svolge il rito. Come abbiamo già accennato il luogo è particolarmente significativo. Il rito avveniva nei pressi della porta di San Pietro, quindi nella soglia di ingresso e di uscita dalla città. Quindi la porta come punto di passaggio tra due realtà. La possibilità di uscire da una realtà conosciuta, quella della città, a una realtà sconosciuta, quella dell'esterno della campagna e viceversa il rischio dell'entrata del mistero, di qualcosa di sconosciuto dall'esterno verso l'interno della città e quindi una possibile causa di pericolo per gli abitanti della città stessa. Ecco quindi che la soglia e il punto di passaggio diventa un luogo da esorcizzare, da tenere sotto controllo, dove poter consentire un passaggio da e per senza nessun trauma o quantomeno da poter gestire culturalmente attraverso il rito. Faccio presente che queste modalità culturali simboliche sono presenti anche nella nostra cultura, nella nostra società moderna. Un esempio per tutti, il primo mese dell'anno è gennaio e quindi significa appunto il momento di passaggio dal vecchio anno, si abbandona ciò che è stato e si inizia un nuovo percorso sconosciuto e anche per questo pericoloso e il mese di gennaio, il nome gennaio, deriva proprio dal dio Janus, la cui radice è la stessa di Janua, che in latino significa appunto porta. Per quanto riguarda il soggetto del rito, cioè la popolazione di Alatri, un'analisi più approfondita sui meccanismi sociali e culturali di aggregazione identitaria di una comunità richiederebbero molto molto tempo. Qui basterà dire appunto che questi sono rituali che scanditi temporalmente e situati in un determinato spazio aiutano a creare e a confermare l'identità sia culturale che sociale di una comunità determinata. Un'ultima breve considerazione sul nome della porta dove avveniva il rituale appena descritto, porta San Pietro, un accesso alla città che nel passato, nell'antichità, era posto sotto la custodia di un antico nume, di una divinità pagana e con il cristianesimo vincente invece il nuovo protettore dell'ingresso alla città sarà San Pietro, guarda caso, il santo considerato il custode dell'accesso al paradiso, alla vita eterna. Concludo questo mio primo intervento di antropologia del cristianesimo sperando che abbia trovato il vostro gradimento e quindi non mi resta chi aspettarvi al prossimo appuntamento e al prossimo argomento. A presto!